A una settimana dall'esordio, il cast del GF Vipset è ancora quasi tutto top secret. I siti stanno condividendo l'elenco ufficioso dei concorrenti della nuova edizione. Ma gli addetti ai lavori ne hanno ufficializzati solamente tre per il momento. Per quanto riguarda le donne che vivranno nella casa più spiata d'Italia, si dice che saranno circa 12 celebrità di età e professioni diverse. Un mix che dovrebbe creare dinamiche interessanti sin dalle prime puntate. Tra sette giorni inizierà ufficialmente la settima edizione del GF Vip, la sera del 19 settembre. Infatti, Alfonso Signorini condurrà la prima puntata della nuova stagione delle reality show che quest'anno potrebbe durare anche fino a otto mesi. Ad oggi, lunedì 12 settembre, sono stati presentati soltanto tre concorrenti che tra una settimana entreranno sicuramente nella casa più spiata d'Italia, si sa. Però, che i vipponi saranno almeno 24, quindi la stragrande maggioranza è ancora segreta. Molti siti stanno riportando agli elenchi ufficiosi dei protagonisti della trasmissione di Canale 5. Ovvero quelle celebrità che sembrano vicinissime al cast che sarà confermato solo nel corso delle prime due dirette. Stando a un parere comune di alcuni giornalisti, il gruppo di inquilini dovrebbe essere equamente diviso tra uomini e donne. Tutti di età e professioni differenti, in modo da incuriosire varie fasce di pubblico. Parlando delle donne che dal 19 settembre andranno a vivere tra le mura di Cinecittà. Pare che saranno almeno 12 all'inizio. Qualora il reality show dovesse essere prolungato come molti addetti ai lavori sperano, e accadrà sicuramente in caso di buoni ascolti. Gli ingressi continueranno anche nei primi mesi di programmazione del format di Canale 5. Nella lista delle possibili concorrenti del GF VIP 7, dunque, figurano, Vilma Goic e Pamela Prati, già ufficializzate dagli autori in queste settimane. L'annunciatrice Patrizia Rossetti, l'ereditiera Ginevra Lamborghini, sorella della più famosa cantante Elettra. La modella Nikita Pelizzon, già nel cast della scorsa edizione di Pechino Express. L'opinionista politica Sara Manfuso, l'indossatrice Sofia Gioele Dedona, anche volto di Ti spedisco in convento qualche anno fa. L'attrice Giege, l'ex Geffina Carolina Marconi, l'influencer Antonella Fiordelisi. La poliedrica artista Elenoire Ferruzzi e l'ex star di Nonella Rai Cristina 40. Quest'ultima sarebbe rientrata nel gruppo solo dopo il no di Patrizia Garoppelli. Che ha confermato che non sarà nella casa per stare al fianco del padre che ha problemi di salute. A queste 12 donne dovrebbero aggiungersi altrettanti uomini, il cast completo del GFVP7. Infatti, è composto da 24 personaggi famosi, scelti dopo mesi di provini e incontri anche col conduttore Alfonso Signorini. A proposito del padrone di casa delle reality show, quest'anno sarà affiancato dalla riconfermata Sonia Bruganelli e dalla new entry Orietta Berti, saranno loro le due opinioniste della settima edizione. Un'altra figura presente in ogni puntata sarebbe quella di un ex concorrente che dovrebbe occuparsi delle interazioni con il web durante la diretta. Per questo nuovo ruolo sarebbe stata scelta Giulia Salemi, già presentatrice del GFVP Party un anno fa assieme a Gaia Zorzi. A sostituire l'Italo-Persiana alla guida del programma che va in onda su Mediaset Infiniti due volte a settimana saranno altri due ex-geffini, Pierpaolo Pretegli e Soleil Sorge. A sostituire l'Italo-Persiana alla guida del GFVP Party un anno fa assieme a Gaia Zorzi. A sostituire l'Italo-Persiana alla guida del GFVP Party un anno fa assieme a Gaia Zorzi.